Presidente Chiodi, cosa farà in futuro? Si ricandiderà per le regioni o volerà verso Roma? Insomma, in queste ultime ore, anche sui giornali nazionali, si sono lette tante cose. Allora, intanto per quanto riguarda le candidature, uno può dare al massimo una disponibilità, perché le candidature non è che uno decide e si candida. Io non ho dato la disponibilità alla candidatura parlamentare e do la disponibilità, invece, qualora queste cose siano gradite, ad una candidatura per quanto riguarda la regione. Questo perché? Perché la regione Abruzzo oggi sta facendo un lavoro che ci sta mettendo all'attenzione nazionale. Siamo i soli che riduciamo le tasse, siamo i soli che riduciamo il debito pubblico. Le nostre agende funzionano, le altre evocano queste agende, però non dicono come si fa. Noi abbiamo dimostrato come si fa e oggi la regione Abruzzo è attenzionata a livello nazionale. Questo porta fierezza e orgoglio di essere abruzzesi e a me porta fierezza e orgoglio di essere il presidente dell'Abruzzo.